Grazie a tutti, ho un'esperienza che con il tempo porto dietro, è una bellissima esperienza, è un'importante esperienza che oltre si fa condividere bei eventi, bei momenti, ma ha un segnale dentro che è molto importante, noi giovani secondo me dobbiamo tutti aderire questa bella cosa, non so, il settembre sarà un super evento, è un evento dell'outdoor, è uno dei più grandi nel centro Italia e siete tutti invitati, grazie ancora.